vi propongo un nuovo tutorial in collaborazione con hobby berline e più specificatamente l'elaborazione di queste nappine le nappine sono nate da un'idea che è sorta dopo la realizzazione della borsa ad uncinetto che senz'altro avrete seguito sul canale youtube di hobby berline cioè questa perché oltre ad essere una borsa diciamo da cerimonia mi piaceva che avesse anche una modalità più frivola e inserendo queste nappine nella parte centrale del della mattonella così e quindi anche nella parte opposta potevano diventare una diciamo nota di più frivola che rendevano la nostra borsa utilizzabile anche per altri scopi non soltanto per le cerimonie naturalmente all'occorrenza le nappine si tolgono e potete utilizzare la borsa anche senza quindi vi propongo questo tutorial dove realizzeremo le nappine e vedremo come si produce la perlinatura e come si realizza la coppetta e tutto quanto il resto passiamo ai materiali ho utilizzato un filo da perlinatrici fireline colorazione crystal da 0 12 mm e il costo è 7 euro e 50 poi ho utilizzato degli aghi da perlinatrici bismith da costo 2 euro e 40 sono quelli che hanno l'asola centrale che permette un'infilatura più agevole il tappetino per posizionare le mie perline un paio di forbici e poi perline le perline sono tutte 8 0 th 90 6 7 1 th 90 659 poi perline TH 91 0 77 poi TH 90 821 quest'altro tipo di perline codice TH 91 807 e infine TH 91 919 quindi passiamo all'elaborazione allora iniziamo con la realizzazione della nostra mappina tanto per cominciare posizionate sul vostro tappetino a gruppi a gruppetti le sei colorazioni di perline che dovete inserire durante la lavorazione vi suggerisco di metterle sul tappetino in base alla successione che voi volete dare alla colorazione alle varie colorazioni il gruppo principale è quello delle permanent finish galvanize che costituiranno la base della nostra nappina e poi le altre colorazioni nell'ordine che voi preferite poi prendete un ago da perlinatrici e un filo sottile da perlinatrici di nylon io sto utilizzando il cristal quello trasparente che non si vede e poi applicate nella parte finale della vostra cugliata una cappiolina facendo un nodino semplicemente a questo punto possiamo iniziare posizioniamo sul lago 5 perline dorate 8 0 passiamole sul filo di lavorazione dopodiché passiamo lago nella cappiolina che abbiamo applicato alla fine della cugliata e tiriamo il filo facendolo scorrere fino al gruppo di perline che abbiamo appena inserito tiriamo bene e poi ripassiamo il filo su tutte le perline allo scopo di bloccare la lavorazione pian piano che lavoriamo la cappiolina che abbiamo realizzato andrà a mimetizzarsi all'interno delle nostre perline e di conseguenza anche il nodino piccolo che abbiamo fatto a inizio lavoro passate alcune volte attorno alle perline di base tirate bene il filo e poi cominciamo con l'inserimento del resto del gruppo allora partendo da questo primo gruppo che io ho inserito subito dopo le perline dorate prendiamo una perlina sul lago e il filo esce da questa perlina e noi ci andiamo a inserire nella perlina successiva andando a posizionare la perlina più trasparente tra le due perline dorate e quindi proseguiamo in questo modo prendiamo una perlina dal gruppo che segue e il filo esce dalla perlina dorata questa e noi ci andiamo a inserire nella perlina dorata che segue andando a inserire la perlina matt tra le due perline dorate quindi ancora prendiamo la perlina trasparente e ci andiamo a inserire nella perlina dorata seguente a quella d'uscita del filo e tiriamo poi prendiamo questa opal e il filo esce dalla perlina dorata che sta all'inizio e noi ci inseriamo in quella che segue andando a inserire la perlina tra le due dorate e quindi l'ultima e facciamo lo stesso discorso ci inseriamo nella perlina dorata che segue quella d'uscita del filo ora dobbiamo superare il giro abbiamo concluso il primo giro dobbiamo posizionarci con lago al giro superiore quindi facciamo lo step up passando il nostro ago nella perlina trasparente immediatamente successiva a quella ultima che abbiamo infilato e quindi passiamo il filo di lavorazione sull'ultimo giro da lavorare ora ci troviamo nel giro più esterno dobbiamo fare un giro con le perline dorate e quindi al di sopra di ogni perlina dorata dobbiamo inserire due perline dorate tirate bene fate posizionare bene le vostre perline tra una perlina e l'altra quindi inserite due perline dorate sul vostro ago e andate a passare il filo nella perlina colorata che segue quella più evidente più sporgente le due perline dorate si andranno a posizionare al di sopra della perlina dorata che sta al di sotto di loro quindi prendete due perline dorate scusate due perline dorate ancora e passate l'ago nella perlina colorata che segue saltando quella di base che è quella dorata quindi di nuovo tirate di nuovo stesso passaggio e tirate il filo di nuovo e passate il filo sia nella perlina colorata che vi trovate sulla sinistra e immediatamente anche sulla perlina dorata immediatamente sopra per passare al livello superiore e tirate il filo ottenendo questa struttura in questo successivo giro inseriremo progressivamente una perlina dorata al centro delle due perline dorate e in successione le colorazioni che avete inserito nel giro precedente delle altre perline quindi il filo esce da questa perlina dorata quindi io vado a montare sul lago una perlina dorata e passo l'ago nella perlina dorata che segue posizionandola al centro delle due la perlina che segue è la matt quindi io vado inserire la matt sul lago e passo l'ago nella perlina dorata che segue in questo modo la perlina matt andrà a posizionarsi sopra a quella del giro precedente qui inserisco la perlina dorata qui inserisco la perlina trasparente che si andrà a posizionare sulla perlina trasparente del giro precedente qui una perlina dorata qui una perlina bianca o beige successivamente un'altra perlina dorata una perlina opal una perlina dorata una perlina trasparente e passiamo l'ago nella perlina dorata che segue e in quella del giro sopra a fare il passaggio con il livello superiore ottenendo questa forma un pentagono diciamo ora seguirà un giro di perline dorate quindi inseriamo una perlina dorata e passiamo il filo nella perlina matt che segue che rimane più evidente da questo momento in poi il giro tenderà a stringere quindi tendendo il filo cercate di assecondare la piegatura della vostra iniziale quindi di nuovo e passo il filo nella perlina colorata e tiro un'altra perlina dorata e passo il filo nella perlina dorata più sporgente e tiro vedete che si sta arquando poi di nuovo una perlina dorata e passo il filo in quella colorata che segue ancora di nuovo e passo il filo in quella colorata che segue poi poi in quella dorata passo il filo nell'ultima e di conseguenza nella perlina dorata che sta immediatamente al di sopra per passare al livello superiore a questo punto inseriremo perline colorate e perline dorate in successione qui mi trovo immediatamente la matt quindi esco da questa perlina dorata mi infilo in quella successiva e quindi posiziono la matt su quella che c'è sotto poi inserisco quella dorata e mi inserisco in quella più sporgente che segue poi nella trasparente e mi inserisco nella perlina dorata che segue pian piano vedete il nostro cerchietto va stringendosi poi la dorata poi la dorata e salto questa qui e mi inserisco in quella più sporgente poi la beige e mi inserisco nella perlina dorata che segue poi di nuovo la dorata il filo esce da questa perlina dorata io salto questa e mi posiziono in quella che segue che è più evidente più all'infuori tirate poi segue la opal e passo l'ago in quella dorata subito dopo la opal di nuovo questa dorata poi la trasparente e seguo inserendo nella perlina dorata quindi un'altra dorata e mi vado a posizionare nell'ultima dorata del giro e passo anche l'ago nella perlina matte che sta immediatamente al di sopra per concludere il giro e superarlo e posizionarmi nel giro più esterno adesso seguirà un giro di perline dorate quindi inserisco la prima esco dalla matte e salto quella che ho accanto e vado nella perlina dorata più sporgente tiro bene inserisco un'altra perlina e vado a inserirmi nella perlina colorata più evidente scusate passo un'altra dorata e vado nella perlina dorata subito dopo di nuovo passo in quella colorata di nuovo inserisco una perlina dorata sul lago e mi inserisco nella perlina dorata più sporgente che ho alla mia sinistra poi nella opal di nuovo nella dorata di nuovo nella trasparente di nuovo nella dorata di nuovo nella matte e immediatamente sopra alla perlina dorata del giro che abbiamo appena concluso e abbiamo concluso il giro e superato e posizionatoci nella parte esterna adesso inseriremo come i giri che abbiamo già visto perline dorate e perline colorate quindi la prima del giro è dorata la seconda del giro è colorata poi di nuovo una perlina dorata e quindi una perlina colorata proseguo così per tutto il giro ci vediamo alla fine sono alla fine del giro ho posizionato la mia ultima perlina dorata inserisco sull'ago la mia ultima perlina matte e vado a posizionare l'ago sulla perlina dorata ultima del giro e la prima del giro successivo per superare il giro e posiziono la mia ultima perlina allora dobbiamo fare 5 giri totali contando le perline colorate alla base del nostro centrale quindi 1, 2, 3, 4 quindi dobbiamo fare ora l'ultimo giro di perline dorate e poi un ulteriore giro di perline colorate quindi in questo giro inseriremo le perline dorate e quindi passiamo l'ago nella perlina colorata una perlina sul lago e passiamo nella perlina dorata e facciamo la stessa cosa per tutto il giro sto concludendo il giro ho inserito la mia penultima perlina dorata ora passo il filo ho un'altra l'ultima perlina dorata sul mio ago passo il filo nell'ultima perlina del giro e nella prima del giro successivo e chiudo tirate bene ora seguirà il giro che alterna perline colorate e perline dorate e sarà l'ultimo della nostra coppettina quindi usciamo da qui sotto mi trovo le perline trasparenti e quindi vado a inserire sul lago le perline trasparenti e passo l'ago nella perlina dorata seguente poi inserisco una perlina dorata e passo l'ago nella perlina dorata seguente fate questa successione di perline dorate e colorate su tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro ho posizionato l'ultima perlina matt e ora ho sulla sul lago l'ultima perlina dorata che deve andare nella parte centrale delle due perline di base quindi passo l'ago nell'ultima perlina del giro che stiamo concludendo e nella prima perlina del giro che abbiamo appena realizzato in quello superiore a questo punto la nostra coppetta è completa dobbiamo portare il filo nella parte centrale della base della nostra coppetta facciamolo passare attraverso le perline in modo diagonale in senso diagonale per evitare che si intravedano i passaggi e riportate il filo nella parte superiore della vostra coppetta posizionate il filo in una delle cinque perline di base che avete montato a inizio lavoro dopodiché portate sul lago di lavorazione due perline dorate e andate a inserire il filo e di conseguenza l'ago nella perlina opposta dalla parte opposta del foro quindi noi stiamo uscendo da questa perlina io inserisco l'ago nella perlina che sta di fronte posizionando le due perline al centro faremo un tratto dritto che costituirà il laccetto diciamo della nostra nappina poi ripassate l'ago il filo nella perlina che avete immediatamente sopra tirate bene quindi inserite un'altra perlina dorata sul lago e passate e passate il filo nella perlina accanto girate il lavoro tirate bene il filo in modo che le perline siano ben ferme ben ferme e fate la stessa cosa inserite una perlina sul lago e inserite l'ago nella perlina accanto girate girate il lavoro inserite una perlina sul lago e passate il filo nella perlina accanto tirate bene il filo in modo tale che le perline si posizionino come i mattoncini uno di seguito all'altro e la fila successiva nell'interstizio che le separa passate un'altra perlina girate il lavoro tenete bene teso il filo e di nuovo passate nella perlina successiva questo è l'ultimo giro una di qua e una dall'altra parte dovete mettere in successione 5 perline per fila 5 di qua e 5 di là poi passate il filo un po' di volte attorno alle perline per bloccarlo alcuni passaggi infine posizionatevi di nuovo sulla perlina più in alto quella più sporgente così e aggiungete alla lavorazione 5 perline dorate 2 3 4 e 5 le portate alla base del lavoro e ripassate su tutte le perline appena inserite creando un circoletto di 5 perline fate un secondo giro per bloccare il filo di lavorazione poi passate nella perlina di base per appiattire la lavorazione e mettere in evidenza le 5 perline sovrapposte all'accetto che sta alla sua base poi ripassate il filo di nuovo attorno alle 5 perline ripassate 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 all'accetto ripassate A questo punto ricominciamo ad inserire le perline colorate. Quindi inseriamo una perlina trasparente e posizioniamo l'ago nella perlina dorata successiva, una perlina matte e posizioniamo l'ago nella perlina successiva, una perlina trasparente e quindi di qua, una perlina beige e quindi ci posizioniamo nella perlina dorata di base successiva, una perlina opal e chiudiamo il giro inserendoci nell'ultima perlina dorata e nella prima colorata che abbiamo appena inserito. E ricreiamo il circoletto che avevamo creato alla base. Si formerà questa struttura, praticamente di nuovo un pentagono al di sopra della nappina con questo pezzettino di laccettino. Quindi inseriamo una coppia di perline all'interno di ogni zona dorata, quindi due perline, passiamo nella matte, due perline sul lago e passiamo nella trasparente che segue, due perline dorate e passiamo nella beige, due perline dorate e passiamo nella opal, esattamente come abbiamo fatto il primo giro, né più né meno. Diamo un po' di filo alla lavorazione, Poi due perline dorate e ci inseriamo nella trasparente e in quella dorata del giro successivo. Chiudiamo il giro e ci riposizioniamo all'ultimo giro. A questo punto inseriamo il giro con la perlina dorata tra le due dorate di base la perlina matte sopra alla perlina matte di base posizionando l'agono e la perlina dorata che segue una perlina dorata tra le due che seguono una perlina trasparente sopra quella di base e posizioniamo l'ago tra le due perline dorate che seguono. Proseguite in questo modo per tutto il giro, ci vediamo alla fine, a tra poco. Sono alla fine del giro, inserisco sul lago di lavorazione l'ultima perlina colorata che è caduta e vado ad inserire l'ago nella perlina dorata ultima del giro e poi passo l'ago nella perlina dorata che è immediatamente sopra e tiro ora vado a fare il giro dorato quindi prendo una perlina dorata passo nella matte prendo una perlina dorata passo nella dorata di base più sporgente per tutto il giro ci vediamo a conclusione del giro bene, inserisco la mia ultima perlina dorata e concludo il giro inserendo l'ago nell'ultima perlina dorata del giro e nella prima del livello successivo come vedete sto realizzando una zona piatta che poi andrà inserita nel foro centrale della nostra borsa per assicurarla alla mattonella ad uncinetto con questa soluzione possiamo eventualmente togliere la dappina all'occorrenza e volendo rimetterla allora andiamo a fare un altro giro di perline dorate e colorate quindi inseriamo la matte e passiamo nel giro della perlina dorata poi inseriamo la dorata e passiamo di qua proseguite in questo modo fino a conclusione di tutto il giro ecco ho inserito la mia ultima perlina dorata e vado a passare il filo nell'ultima perlina dorata del giro che sto concludendo e nella prima del giro che ho appena fatto ecco il la mia coppettina diciamo di base è conclusa dovete tenere in successione tre perline colorate e poi concludere il giro a questo punto riporto il mio filo di lavorazione alla base del mio lavoro e torno verso la coppetta della nappina che ho fatto precedentemente quindi passando in diagonale per tutte le perline vado a rimettere il filo nella parte opposta ecco ho riportato il filo alla base della lavorazione uscite con l'ago della parte interna della coppetta verso il centro così adesso dobbiamo fare i fili di perline che vengono posizionati all'interno della coppetta quindi partendo dal primo gruppo inserite sul lago di lavorazione 30 perline ecco ho montato tutte le perline le 30 perline del gruppo successivo salto la prima perlina e ripasso il filo su tutte le perline che seguono ecco tirate l'ultima perlina fate scorrere il filo poi fate passare nella parte interna della nappina nella zona più prossima dove esce il filo fate ripassare l'ago e poi tenendo ferma l'ultima perlina tirate bene il filo in modo tale che il vostro gruppo di perline si posizioni all'interno della nappina ecco questo procedimento lo dovete ripetere naturalmente subito dopo bloccate il filo nella parte superiore della nappina per evitare di passare di nuovo nello stesso punto poi riportate il filo nella parte interna e ripetete questo procedimento fino a quando non avrete inserito il numero di frangette che desiderate inserire all'interno della vostra nappina quindi ci vediamo alla fine del lavoro ecco inserito l'ultimo gruppo ripasso l'ago nella parte superiore della nappina tiro bene il filo tenendo bloccata l'ultima perlina del gruppo e quindi chiudo bloccando il filo tra le perline andandolo a nascondere tra una perlina e l'altra fate alcuni passaggi dopo di che tagliate il filo ecco le nostre due nappine sono complete ci vediamo al prossimo tutorial ecco le nostre due ecco le nostre due